buongiorno amici buongiorno amiche salutiamo pasqui che ci ospita nel suo canale e andiamo a provare un nuovo box anzi più che un box è un adattatore perché allora come vedete la mia auto vede riconosciuto come collegato un iphone in realtà in questo momento io sto facendo il video e sono collegato all'auto con un samsung a53 con android 14 qui in questo momento siamo collegati con android auto wireless sempre del samsung suddetto e questo è il box ma sarebbe meglio dire l'adattatore che praticamente sta connettendo via wireless il mio smartphone android al mio alla mia auto radio che normalmente avrebbe funzionerebbe con android auto via cavo e carplay via wireless quindi come vedete qui risulta collegato un iphone in realtà collegato è un android e merito di tutto ciò è lui collegato alla mia auto radio ve lo faccio un attimo vedere non c'è molto da vedere a parte la lucina c'è la dissipazione qua sotto qui c'è una porta usb a cosa serve questa porta usb perché lo potete collegare alla vostra auto radio sia con una porta usb classica che con una porta usb c ma nel caso in cui lo colleghiate a una porta usb classica in questo modo qui avrete comunque a disposizione una usb per caricare un qualche vostro un qualche vostro dispositivo quindi in pratica è vero che qua vi giocate una porta usb perché ci collegate questo dispositivo però lui ve la rimette a disposizione però questa questa presa quindi non ha nessun'altra funzione se non quella di poter caricare è comunque un tocco di classe una cosa utile perché altri dispositivi come ad esempio questo qua che io uso normalmente non non avendola vi occuperà la vostra porta usb e non ne avrete più nessuna disposizione invece con questo qui ne avrete una di nuovo a disposizione è un tocco di classe una cosa carina vedete queste sono le sue caratteristiche lui praticamente nel nome si chiama quattro in uno perché fa effettivamente quattro cose in un solo dispositivo quali sono queste quattro cose quando voi lo collegate lui qua vi dice ma tu vuoi android auto wireless carplay wireless vuoi fare mirroring apple o mirroring android io gli ho detto che volevo android auto wireless e quindi lui mi ha connesso ad android auto wireless ma se io avessi premuto mirroring android lui mi avrebbe riprodotto qui il display del mio del mio samsung chiaramente nella nel vostro smartphone dovete attivare la l'opzione mirroring a me sinceramente il mirroring non piace preferisco avere android auto infatti adesso siamo connessi ad android auto adesso io non mi devo mettere a spiegare a tutti come funziona android auto perché lo sapete lo sapete meglio di me però vi dico che la grafica non è distorta anzi c'è una risoluzione perfetta come se fossi connesso via cavo l'assistente vocale funziona previsioni meteo domani ad africo a africo nuovo domani sarà parzialmente nuvoloso con una massima di 18 gradi e una minima di 11 funziona perfettamente io l'ho usato molte volte anche per ad esempio dialogare con l'assistente e ha sempre disposto in modo rapido quindi assistente vocale funziona benissimo la linea non cade mai ieri sera io ho fatto anche un aggiornamento mi sono collegato al dispositivo attraverso utilizzando le istruzioni presenti nella scatola e ho trovato anche un aggiornamento firmware che ho fatto quindi che vi devo dire è sicuramente una novità interessante perché a differenza di altri altri dongle come questo questo lui per esempio non permette di fare il mirroring se qualcuno di voi interessato lui fa mirroring ma anche se voi non voleste fare mirroring comunque lui vi fa un android auto wireless perfetto ci ha avuto anche appunto come dicevo un aggiornamento otta quindi diciamo che è una novità interessante perché funziona bene android auto wireless che è la cosa che a noi interessa di più ma oltre a quello c'è la possibilità di fare mirroring che dispositivi come questo non vi permettono quindi ecco c'è poco altro da dire perché poi vedete funziona tutto come se io fossi collegato ad android auto via cavo quindi è un dispositivo che io vi vi promuovo è disponibile su una su amazon amazon italia con il prezzo variabile quindi io vi metterò in descrizione video anche il il link per l'acquisto amazon e se mi ricordo vi metto anche una piccola guida che ho fatto per l'aggiornamento del firmware che non è difficile ma qualcuno di voi ha difficoltà e quindi è sempre da voi richiesta ciao a tutti ci vediamo presto con un nuovo video